Dopo la vittoriosa trasferta di Cefalù, che ha sancito l'aritmetico primo posto in classifica e approda i play-off da giocare a fine anno con le squadre del Girone A, l'Invicta Basket scenderà in campo domenica pomeriggio alle ore 18 al Palacanizzaro, contro il Sant'Agata nella decima giornata di ritorno. I ragazzi del coach Spena verranno abbracciati dal pubblico nisseno che segue con molta affluenza le geste della società nissena e vorranno continuare nella loro marcia di vittoria per inanellare altri record, sia di squadra che personali per i ragazzi che scenderanno sul parquet. Basket, Serie D, Girone B decima giornata Leonardo da Vinci, capo basket Invicta, Sant'Agata Virtus Trapani, Zannella Cefalù Riposa, basket Messina